La Gala presenta insieme ad altre prestigiose e meravigliose associazioni con patrocinio del Comune di La Mezza Terme, Gala in Concerto. Allora, cominciamo intanto a parlare di questa associazione culturale Gala che è operativa dal 2008, nasce all'interno dell'Istituto Enaudi istituto da dove veramente nascono dei talenti che stasera avrete modo di apprezzare. I musicals realizzati, Notre Dame de Paris, Giulietta e Romeo, Santa Maria degli Angeli e il top sicuramente...